Una ragazza per il cinema, 34esima edizione, io sono Naomi Moschitta, questa sera mi occuperò di condurre la nave della serata talento, la serata più importante, quella nella quale veramente scopriamo i talenti delle Miss, è la nostra stella, si chiama Guess, perché Guess supporta il talento e supporta una ragazza per il cinema, seguite il cinema. Buonasera a tutti, sono Aurora Pappalardo, ho 16 anni e vengo da San De Mani di Ligoddia, mi sono appena esibita in un samba di latino americano ad una ragazza per il cinema, ingrociamo le dita. Sto preparando a questo momento una coreografia speciale. Ciao ragazzi, sono Lucrezia, ho 20 anni, vengo da Siena in Toscana e la cosa che più amo è la recitazione, mi sto veramente appassionando tantissimo perché riesco a metterci tutto a me stessa, riesco a parlare di me e a comunicare a tutti quello che sono davvero. Quindi vediamo un po' la vita, che cosa mi regala. Ciao, sono Pablo, art director della Maison Gilles Canier. Per le ragazze abbiamo pensato a un make-up piuttosto naturale, poiché avranno tantissimi cambi, tantissime uscite. Ciao ragazzi, buonasera, questa sera siamo al Teatro Antico di Taormina. Il concorso in questione è supportato dalla famiglia di Guess che crede in principal modo nel talento e nelle capacità dei ragazzi. Io ne sono un esempio concreto, grazie a loro ho iniziato la mia carriera da modello ed oggi vengo supportato per quanto riguarda la mia carriera da cantante. Non vedo l'ora di cantare su questo panico. Con l'ora di cantare. S 這إ non farà un po' la tara di cantare. Vià sempre rispond Aquino. Buona tante. Grazie a tutti.